Covid-19, i dati di oggi in Abruzzo, si registrano 462 nuovi casi. Grido d'allarme del presidente Tecneco, i nostri operatori vanno vaccinati, dichiara Di Carlo. Santa Croce, investimenti green e assunzioni, il piano industriale dell'imprenditore Colella. Sicurezza in montagna con il kit Artva, presto una legge per l'assessore Liris. Ben trovati dalla redazione di Antenna 2. Come avete sentito dai titoli, sono altalenanti i numeri del contagio da Covid-19 in Abruzzo. Sono complessivamente 61.387 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 462 nuovi casi. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 77, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 32 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1.943. Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 48.342 dimessi o guariti, più 1.026 rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11.102, meno 576 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 833.657 tamponi molecolari, più 5.964 rispetto a ieri. E 3.000, scusate, 327.420 test antigenici, più 4.106 rispetto a ieri. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 4.6%. 667 pazienti, invariato rispetto al dato di ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre 89 con 5 nuovi ricoveri sono invece in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.346, meno 576 rispetto al dato di ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL competenti. Come riportato dai colleghi di Marsica Live, aumentano i contagi da coronavirus nella Marsica, sono 63 i nuovi casi dei nuovi contagi, 17 fanno riferimento al comune di Avezzano, sono 16 invece nel comune di Celano, 10 in quello di Magliano, 9 a Tagliacozzo, 4 a San Benedetto, 2 a Daielli, così come 2 a Luco e a Castella Fiume, 1 invece nel comune di Lecce dei Marsi, stesso numero a Scurcola, Pescina, Trasacco e Balzorano. Dall'inizio della pandemia è stato colpito dal virus il 4.6% della popolazione marsicana contro il 4.66% della popolazione abruzzese. Il bilancio complessivo da inizio emergenza sanitaria parla di 5.962 contagi in tutta la Marsica. Attualmente su tutto il territorio ci sono 564 persone in quarantena, alla fine dell'anno erano 760. Le persone decedute in totale sono 213, lo 0,2% dell'intera popolazione marsicana. Per quanto riguarda i ricoveri sono 44 i marsicani in ospedale, per i quali 41 nei reparti di medicina Covid, mentre 3 sono in terapia intensiva. Proseguono le campagne di screening promosse dalle amministrazioni comunali per monitorare la diffusione del contagio del coronavirus tra la popolazione. Venerdì 19 marzo sono previsti screening sempre gratuiti e su base volontaria nei comuni a San Vincenzo, Valle Roveto. Venerdì dalle ore 14 alle 15 nell'ambulatorio della frazione di Castronovo e dalle ore 15.30 alle 16.30 nell'ambulatorio di Rosce Santa Restituta. Domenica invece dalle ore 16 alle 17 si svolgeranno nella sede della Proloco a San Vincenzo Vecchio. Camponi gratuiti saranno realizzati anche a Santa Maria, sempre venerdì, dalle ore 9 alle 13.30 e nella sala Don Beniamino con il supporto della protezione civile comunale. Mentre a Tagliacozzo è operativo il call center per la prenotazione dei tamponi rapidi e per le informazioni riguardanti i vaccini. Il drive-in per i tamponi sarà operativo a partire da domani nel cortile dell'Istituto Scolastico Argoli. Cambiamo notizia. È accorato il grido d'allarme lanciato alle istituzioni dal presidente di Tecneco Umberto Di Carlo che teme per la salute dei suoi mille dipendenti. I nostri operatori, dichiara, vanno vaccinati affinché possano operare in sicurezza quotidianamente e senza sosta dal marzo 2020, gli operatori di Tecneco in Abruzzo, come in Lazio e in Puglia, sono a servizio del cittadino, mettendo spesso a rischio la loro incolumità. Sono loro, infatti, che si occupano di ritirare nelle utenze i rifiuti Covid delle persone in quarantena o delle strutture che li ospitano. Il tutto senza mai sottrarsi al loro dovere. Per questo, prosegue Di Carlo, dopo aver provato più volte a far presente la necessità di vaccinare gli operatori senza avere mai avuto alcuna soluzione in merito, Di Carlo ha deciso di lanciare un appello alle istituzioni e alle aziende sanitarie e locali affinché prendano in considerazione questa situazione di emergenza. Forse chi stabilisce le categorie delle persone che devono vaccinarsi prioritariamente non conosce l'operato quotidiano dei dipendenti delle società come Tecneco che si occupano dei servizi di igiene urbana, ha dichiarato Di Carlo. Prosegue. Condivido la proposta di vaccinare le persone che appartengono alle categorie più esposte ai possibili contagi, ma chiedo che si pensi urgentemente anche a chi opera nel servizio di igiene urbana. Come azienda, continua il presidente Tecneco, abbiamo dato la disponibilità della nostra struttura di salute e prevenzione e il nostro medico competente, a patto e condizione, che ci vengano forniti i vaccini. Conclude il presidente Di Carlo. Il nostro interesse è solo quello di assicurare la massima sicurezza ai dipendenti. Chiediamo alle istituzioni e alle aziende sanitarie di competenza di esprimersi in merito perché non possiamo più aspettare. Si è riunito il tavolo per la sicurezza in montagna, promosso e voluto dall'assessore regionale Guido Quintino Liris. Ha dato parere unanime e positivo per la modifica di legge che rende obbligatorio per le discipline di alta quota il kit Artva. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. L'idea è quella di dotare tutti gli escursionisti che vanno in montagna di una specifica attrezzatura che permetta loro di essere rintracciati anche se vengono malagolatamente sepolti da una valanga. Oggi c'è un tavolo di concertazione qui all'Aquila, al Palazzo Silone, proprio per valutare le iniziative da adottare per raggiungere questo risultato. Sì, deve essere una giornata estremamente positiva quella di oggi. È un po' l'evoluzione dell'esperienza che ha rappresentato un unicum, un'esperienza senza pari a livello nazionale ma credo anche internazionale, nella misura in cui a forma a massa d'albe abbiamo avuto tutti i corpi di polizia, forze dell'ordine, soccoritori alpini, CAI, tutti, in prima linea, in sinergia, a collaborare. Per poter arrivare a uno scopo, alla soluzione di una situazione assolutamente difficile, quella che si stava concretizzando giorno per giorno in maniera negativa, e cioè il ritrovamento dei dispersi. Poi abbiamo avuto, purtroppo dopo 28 giorni, la bruttissima notizia della morte dei quattro dispersi. Quindi un insieme e una combinazione di sentimenti che sono andati dalla fiducia iniziale fino alla disillusione e alla disperazione della fine e della conclusione. Questo che ha davanti è un kit, vedo una pala, vedo una palina e delle apparecchiature. Questa è la dotazione dei soccorritori, non degli escursionisti. In realtà, per quanto riguarda l'uscita alpinismo, dovrebbe già essere una dotazione per andare in alta quota. Il fatto è che non c'è di fatto una legge organica che affronti la sicurezza in montagna. Affrontare la sicurezza in montagna è un modo per concepire e vivere in sicurezza la montagna 360 gradi, 365 giorni l'anno. Stiamo parlando di un approccio mentale che deve essere partorito e generato e costruito fin dalle fasce più giovani e non deve avere lo scopo repressivo di disincentivare la frequentazione della montagna. Tutt'altro è avvicinare la montagna in maniera intelligente, imparando a rispettarla, imparando a rispettare quali sono le condizioni che la montagna ti può all'improvviso presentare, mettendo in una condizione gli escursionisti, quindi non soltanto chi fa scid'alpinismo, perché quest'obbligo è l'obbligo di avere questa dotazione, in particolar modo l'ARBA, che è il mezzo per eccellenza per essere trovati sotto le valanghe, non è obbligatorio per chi usa ciaspo, le ramponi, per chi fa escursioni in alta quota. Questo non è possibile, non può accadere più quello che è successo a Forme dopo 28 giorni per una disperazione complessiva dei familiari innanzitutto, di una comunità intera e soprattutto mettere a repentaglio la vita di soccorritori che giorno per giorno sono andati a svolgere il loro dovere nella speranza di poter portare a casa il risultato. E questo è una constatazione, un approccio che dobbiamo avere in particolar modo, alla luce del fatto che negli ultimi anni la frequentazione della montagna ha aumentato in maniera vertiginosa, non lineare, ma esponenziale, quindi abbiamo avuto una frequentazione sempre più ampia. Quest'anno ci aspettiamo addirittura una frequentazione ancora maggiore alla luce del Covid, del fatto del post-Covid, ci avviciniamo sicuramente a degli effetti positivi post-vaccinali, post-misure restrittive e noi abbiamo timore che anche da fuori regioni, in particolar modo da Lazio, dove questa cultura della montagna, ecco, se in Abruzzo e nell'Aquilano e nel Terramano, di certo non è così forte anche nell'ambito di regioni limitrofe diverse della regione Abruzzo. Una frequentazione in sicurezza, sia per gli escursionisti che per coloro che poi saranno costretti eventualmente, speriamo mai, ad andare in loro soccorso. Mediante quale tipo di apparecchiature? Qual è questo apparecchio che dovranno avere in dotazione i frequentatori della montagna? Noi siamo abituati alla battuta più frequente dell'Aquilano, di verificare come si vada sul corno grande anche quegli infradito. Ecco, questo non può accadere. Andare in sicurezza significa essere dotati, vestiti e attrezzati nel modo giusto, quindi dal vestiario all'attrezzatura che vediamo. Innanzitutto l'arva che appunto riceve e trasmette segnali nel caso in cui non ci sia nella possibilità di avvisare in altro modo, quindi per esempio quando si è sotto le valanche. Questa è una sonda, quella che ha detto in Aprilino, una sonda per andare metri sotto e andare a verificare. Anche questo è uno strumento utilissimo e la pala certamente per andare a rimuovere la neve che si presuppone sia sopra il corpo. Quindi questo è una strumentazione insieme anche al vestiario, la dotazione che bisogna avere quando si va in montagna, che innanzitutto bisogna conoscere. Bisogna conoscere quello che si addosso e quello che si porta nello zaino ed è questo il motivo per cui vorrò, in una legge che verrà partorita da questo tavolo, quindi dagli utenti primi della montagna, da chi la conosce bene, una legge che insegni anche a usare questo tipo di strumentazione. Quindi formazione e informazione, ma fatta in maniera importante, soprattutto nella giovanità, per avvicinare le persone in maniera intelligente e sicura alla montagna. Mi immagino anche dei gate, degli sportelli, dei cancelli alla base delle montagne, l'accesso alle montagne. Me le immagino a Fonte Cerreto, con persone addestrate che conoscano la montagna e che possano dare delle indicazioni, che se vedono una persona passare con scarpe non idonee, con vestiario non idonee e non attrezzate, possano sconsigliare di salire in montagna perché le condizioni non lo consentono, perché le condizioni possono peggiorare, perché probabilmente ci possono essere degli imprevisti. Il divieto c'è nella misura in cui c'è la legge, la legge deve essere rispettata, la legge deve avere delle ammende che devono essere combinate. Nel momento in cui c'è una cifra che va stabilita di pagamento, come quando non porta il casco, quando non porta la sanzione, a quel punto la legge ha motivo di essere rispettata, ripeto, per tutte le discipline in alta quota. Certamente, certamente, può essere valutato anche il fatto che laddove ci siano responsabilità oggettive, quindi situazioni che capitano e non possono essere previste, addirittura si può immaginare anche il pagamento di un ticket nel momento in cui si viene soccorso in montagna. Ecco, sono misure di civiltà che devono essere sposate in formazione e formazione per, ripeto, non disincentivare la fruizione della montagna e la frequentazione della montagna, ma certamente per aumentarla, ma in maniera intelligente e sicura. Sono stati anticipati dal sodalizio dell'imprenditore Camillo Colella alcuni aspetti più qualificanti del piano industriale della società Santa Croce. 4 milioni di euro di investimenti, potenziamento delle linee produttive, una politica industriale green che porterà alla realizzazione di un percorso tematico, alle sorgenti della vita di un parco fotovoltaico al fine di ottenere l'autosufficienza energetica, l'assunzione di 20 addetti per arrivare a regime A50, a cui si aggiungeranno fino a 500 posti di lavoro dell'indotto. L'imprenditore Colella è pronto a tornare a imbottigliare l'acqua minerale della sorgente Sant'Antonio Sponga nello stabilimento di Canistro dopo cinque anni di stop con la preziosa acqua che finisce nel fiume Liri. Santa Croce è ad oggi la concessionaria provvisoria della sorgente in virtù del bando regionale del 9 febbraio del 2019. Si attende a breve l'esito dell'esame della documentazione da parte del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impianto di impatto ambientale ai fini dell'ottenimento della concessione definitiva. L'anticipazione di alcuni contenuti del piano industriale risponde ora alla volontà da parte della società di inaugurare una nuova fase. Una volta ottenuta alla concessione definitiva, spiega il patron Colella, riavvieremo la produzione entro 90 giorni. Dopo anni di scontri siamo i primi a voler voltare pagina, mettere da parte le polemiche e la conflittualità che ha segnato questi anni. Il nostro interesse è solo quello di tornare ad imbottigliare qui a Canistro una delle migliori acque minerali d'Italia che da cinque anni si riversa inutilizzata nel fiume Liri. D'ora in avanti vogliamo solo lavorare con determinazione e serenità per la crescita dell'azienda e del territorio, creare lavoro e sviluppo. A maggior ragione ora che tutti devono fare la propria parte per superare la drammatica crisi sanitaria ed anche economica e occupazionale causata dalla pandemia del coronavirus. A dimostrarlo è proprio l'ambizioso piano industriale che abbiamo presentato e che ci siamo motivati a rispettare. Il piano industriale prevede anche una forte sinergia con il tessuto produttivo del territorio, ad esempio attraverso la messa a disposizione della rete distributiva all'estero di Santa Croce in modo da ottimizzare i costi e penetrazione commerciale delle imprese abruzzesi. Di valenza ambientale anche il progetto di installazione presso i principali clienti di Santa Croce di ecostazioni della tipologia reverse vending machine per il riciclo della plastica, ovvero distributori automatici che restituiscono monete in cambio dell'inserimento di bottiglie di plastica. Otto posti di terapia sub-intensiva all'interno di malattie infettive dell'ospedale di L'Aquila pronti per essere utilizzati in caso di necessità. L'inaugurazione del nuovo modulo si è svolta questa mattina al San Salvatore. Erano presenti gli assessori regionali Nicoletta Verì, assessore alla sanità e Guido Liris, assessore al bilancio. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il sindaco di L'Aquila Pierluigi Biondi, il manager ASL Roberto Testa, il direttore sanitario aziendale Alfonso Mascitelli e il direttore di malattie infettive Alessandro Grimaldi e quello del sanitario di presidio Giovanna Micolucci. Gli otto posti eletto nell'ambito dei 24 complessivi a disposizione di malattie infettive sono stati trasformati in un mini reparto di sub-intensiva da utilizzare per assistere pazienti soprattutto Covid, ma non solo, a cui poter assicurare ventilazione non invasiva al di fuori, cioè dei casi in cui è necessario intubare il degente. Una soluzione che consente al reparto di fronteggiare al momento questo tipo di necessità assistenziale, dando una risposta flessibile in funzione dei mutevoli bisogni. Gli interventi strutturali per l'apertura degli otto posti eletto di sub-intensiva sono stati portati a termine a tempo di record. È solo una prima fase del potenziamento del reparto perché nel giro di un paio di settimane verrà completata un'altra tranche di lavori che consentirà di attivare altri sette posti letto di sub-intensiva nell'ottica di un progressivo potenziamento di malattie infettive. Inoltre in tempi brevi verranno realizzati percorsi separati per l'ingresso delle ambulanze, uno spogliatoio per il personale e messo in funzione un ascensore dedicato. E questa era per oggi l'ultima notizia. Prima di salutarci vi ricordo che questa edizione del Tg è visibile integralmente sul nostro sito www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano. Il mio personale ricordo va ad un grande amico e collega di questa redazione a Paolo Guadagni. Grazie di tutto Paolo. Grazie.